vi siete mai chiesti quanto sia importante il percorso psicologico ve lo dico io tantissimo e questo perché vi aiuta a scoprire voi stessi a sentirvi liberi e a capire che non siete voi il problema come spesso vi hanno fatto credere gli altri scegliere di intraprendere un percorso psicologico è stato il regalo più bello che potessi farmi a volte si crede che i problemi siano risolvibili in uno schiocco di vita ma non sempre è così purtroppo non tutti possono permettersi di intraprendere tale percorso per le troppe spese ma spero che prima o poi il governo dia la possibilità ad ognuno di noi di avere un supporto psicologico permanente